La nuova PIA è il titolo di questa parte di Terzo Canale, ne parliamo con Alberto Bonisoli, Presidente di Formes, che lo capiremo dopo, è in una posizione davvero rilevante da questo punto di vista. Ma la prima cosa, Presidente, ben trovato, intanto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. La prima cosa che le chiediamo di trasferirci in termini molto semplificati, visto il tema, è che cos'è la transizione digitale nella PIA? La transizione digitale è il passare da carta a un supporto digitale, quindi da passare da un mondo analogico ad un mondo digitale, quindi che funziona con le regole dell'informatica, adattando quelli che sono non solamente gli strumenti, ovvero computer, pdf, tutto quello che gira su un supporto digitale, ma i processi e le procedure che vi stanno dietro. E questo ha, ad esempio, delle implicazioni molto immediate, sia nelle cose che si vedono meno, e quindi sono i processi interni della pubblica amministrazione, sia magari le cose che vedono di più i cittadini che vanno da banalmente, non so, l'emissione della carta di identità elettronica, fino a come, e questa è un'esperienza diretta che abbiamo fatto come Formez, tutto quello che riguarda la gestione del concorso pubblico, perché oggi concorsi pubblici noi li facciamo in una modalità digitale con delle significative differenze rispetto al passato. È corretto dire che la transizione digitale è la leva principale per la deburocratizzazione dell'APA? La digitalizzazione o l'introduzione delle possibilità che dà la digitalizzazione, effettivamente dà delle opportunità alla pubblica amministrazione di cambiare in una maniera importante. Le faccio un esempio. In un progetto che stiamo facendo con i distretti giudiziari della Sicilia, stiamo introducendo, anzi abbiamo già introdotto in realtà, dei canali telegram unidirezionali con cui i giudici possono comunicare, ad esempio, l'orario e la sede dove verranno tenute le udienze. Quindi stiamo parlando di un modo completamente diverso di rapportarsi con il cittadino che a questo punto, invece di ricevere la raccomandata, il messo comunale o quant'altro sono le forme di comunicazione, lo riceve in una maniera puntuale attraverso degli strumenti di natura digitale. Prima accennavo ai concorsi, oggi tutta la gestione dei rapporti, dall'iscrizione del candidato fino alla pubblicazione della graduatoria, fino a tutte le comunicazioni che arrivano dopo ai candidati vincitori, quindi quelli che verranno assunti, avviene non solo in maniera digitale ma all'interno di un'unica piattaforma dove tutto rimane registrato, dove c'è la possibilità banalmente di sollecitare una risposta nel momento in cui questo non avvenga e così via. Quindi ci sono delle possibilità senz'altro molto importanti da un punto di vista sia della semplificazione amministrativa e sia della deburocratizzazione. Che è un termine difficilissimo da pronunciare. Purtroppo sì, devo farlo lentamente. Digitalizzazione vuol dire poi essenzialmente avere a disposizione una grande quantità di dati, quindi la Smart City che oggi si chiama di più Sensible City vuol dire che con questi dati si può lavorare molto sull'efficienza del sistema, per esempio urbano. Assolutamente, tenga conto che c'è questa, quando si parla del cloud nazionale, quando si parla di dotare la pubblica amministrazione di strutture che ad oggi erano disponibili ma solo presso dei provider privati, c'è anche dietro non solo un problema di protezione del dato e di gestione di proprietà, perché i dati della pubblica amministrazione, pensiamo ad esempio di un archivio di un tribunale, mi sentirei un po' in imbarazzo a darlo completamente nelle mani di un soggetto privato che un domani potrebbe essere tentato da manipolarlo o comunque da poter corrompere la correttezza del dato. Quindi il fatto che dobbiamo tenere all'interno della pubblica amministrazione mi sembra quasi una sinecura, c'è qualcosa che va fatto assolutamente. È anche vero che la gestione di questi dati, esattamente come funziona per gli algoritmi che oramai guidano la nostra vita quotidiana, ci consente di fare delle analisi, capire quali sono le tendenze, vedere ad esempio in un concorso pubblico dove ci sono delle zone italiane del territorio che hanno una sovrabbondanza di candidati rispetto ai posti e dove ci sono delle zone dove invece succede esattamente il contrario. E banalmente una volta che ho capito questo posso fare delle azioni correttive per trovare quei candidati che ad esempio storicamente non riesco ad avere in certe zone d'Italia. Ecco, adesso che abbiamo capito il contesto, capiamo anche qual è il ruolo di Formez dalla struttura che dirige poi magari qualche esempio. Il ruolo di Formez in questo processo qual è. Formez è un'associazione, è un'associazione di pubbliche amministrazioni, abbiamo 62 soci, abbiamo un socio di maggioranza, quindi che ha la maggioranza delle quote, che è la presidenza del Consiglio e Dipartimento della Funzione Pubblica e abbiamo altre decine di soci che vanno dalle principali regioni, da regione Campania, si è appena associata a regione Lazio, regione Lombardia, regione Puglia eccetera, Sardegna. Sicilia, i principali comuni, Roma, Genova, Napoli. Abbiamo altri enti che vanno dall'ICE all'Agenzia per la Cyber Security, all'Agenzia delle Entrate, alla Corte dei Conti, quindi abbiamo una panoramica abbastanza trasversale delle diverse pubbliche amministrazioni che ci sono in Italia. Cosa facciamo per loro? Consulenza e formazione fondamentalmente. Quindi ci occupiamo di dare dei suggerimenti per quello che riguarda la riorganizzazione e la semplificazione dell'attività di queste pubbliche amministrazioni e ci occupiamo di quello che viene chiamato il capitale umano, con una serie di interventi che vanno dalla gestione dei concorsi, quindi dall'assunzione, fino a tutta la gestione dell'entrata in servizio e della formazione sia in entrata, quindi quelli che iniziano a lavorare, sia formazione continua, ovvero dei dipendenti che attualmente sono in servizio. Questo è il nostro ruolo, quindi aiutare le pubbliche amministrazioni in due parole a funzionare meglio. Quindi se è tutto quello di cui stiamo parlando, transizione, deburo-organizzazione è basata sulle competenze, queste competenze arrivano anche da Formez? Certamente e a seconda dei vari casi, ad esempio noi abbiamo fatto un progetto abbastanza importante anche come dimensione che era la misurazione e la formazione del personale pubblico per le competenze di base in ambito digitale, quelle di cui parlavamo prima. Quindi c'è un sistema, una piattaforma che abbiamo realizzato dove il singolo dipendente può testarsi, quindi attraverso una serie di domande e risposte capire quali sono i punti di forza della sua familiarità con le competenze digitali e quali sono invece i punti di debolezza e scegliere all'interno di un pacchetto di corsi di formazione, sono formazione online quindi sono tutte cose che uno può gestire tranquillamente all'interno dell'orario di lavoro senza costi di trasferta e quant'altro, andarsi a rafforzare laddove ci siano delle aree di deficienza oppure sicuramente di miglioramento. Stiamo parlando di un progetto che ha formato qualcosa come 40.000 dipendenti negli ultimi mesi, quindi stiamo parlando di potenzialmente qualcosa che ha un forte impatto. In più stiamo lanciando delle attività, ad esempio finanziate dal PNRR di formazione sempre, non solo nell'ambito di quello che si viene chiamata la transizione digitale ma anche nelle altre aree, dalla transizione amministrativa, quella ambientale, a tutto il discorso appunto sulla semplificazione e banalmente l'applicazione del nuovo codice degli appalti, tanto per dare un'idea, che verrà realizzato invece in un ambito più grande dove i soggetti, delle persone che pensiamo di formare saranno nell'ordine delle decine o centinaia di migliaia nei prossimi anni. Poi abbiamo letto, curiosando così nel sito, ma anche di progetti speciali, dai piccoli comuni alla tutela del patrimonio, alla rete natura. Dipende, come ogni realtà che si occupa di servizi di consulenza e formazione, noi siamo direttamente collegati a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione con cui lavoriamo. Quindi ci sono delle amministrazioni che ci chiedono, ad esempio, degli interventi più in materia, sono detti prima, di semplificazione o di quelli che noi chiamiamo interventi di valore pubblico, quindi di riorganizzazione, di valorizzazione di quelle che sono delle aree di miglioramento interno. Ci sono delle altre situazioni dove invece interveniamo su qualcosa di nuovo e cerchiamo di spargere, di diffondere delle conoscenze, delle buone prassi all'interno delle amministrazioni. Faccio un esempio. Con il ministro Brunetta si è introdotto il PIAO. Il PIAO è il piano integrato di attività e organizzazione che ogni amministrazione è tenuta a fare. Questo PIAO raggruppa tutta una serie di adempimenti dal piano anticorruzione al piano del fabbisogno dei personali, che prima veniva fatto con diverse scadenze temporali. Quindi cosa succedeva? Succedeva che un'amministrazione, immaginiamo anche un'amministrazione di piccole dimensioni, un piccolo comune, un comune da 3.000 abitanti che ha magari una tutura amministrativa di pochi impiegati. Praticamente una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, doveva adempiere ad un report che doveva mandare ad un ministero, ad un'amministrazione centrale, ad un'amministrazione regionale e così via. Si è fatto uno sforzo di unificare questi adempimenti e adesso questa amministrazione è tenuta a fare all'anno un unico documento che raggruppa tutta questa serie di necessità informative. Non c'è esperienza nel farlo, perché è una cosa appena partita, è partita l'anno scorso. Quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo con tutte le regioni italiane, è quello di condividere l'esperienza che in alcune regioni è più avanzata, in altre invece è più arretrata, in modo da insegnargli, non tanto ex cathedra, perché il nostro non è un insegnamento accademico, è un insegnamento legato alla pratica, quindi identificando quelle che sono delle buone prassi e andandole a diffondere, in modo che le pubbliche amministrazioni un domani possano svolgere questo compito che è nuovo, come dicevo, assolutamente innovativo, in modo semplice, veloce, efficiente e tempestivo. Una battuta per chiudere, Presidente, il processo di deburocratizzazione anche attraverso la transizione digitale è in atto? Secondo lei c'è consapevolezza politica e governativa e il processo è attivato? È in atto, non è concluso. Secondo me però dobbiamo fare un piccolo passo indietro, nel senso che quando parliamo di digitalizzazione, a mio avviso, dobbiamo avere presente che ci sono diverse fasi. Secondo me noi siamo usciti da una fase iniziale dove appunto l'enfasi era sul trasferimento tra la parte cartacea e la parte digitale. Non dico che è stato fatto dappertutto, c'è ancora molto da fare, però molto è stato fatto e secondo me si vedono già le prime risultanze. Prima parlavo dei concorsi. Il fatto di avere tolto il foglio di carta su cui venivano fatte le famose domande a risposta multipla e averlo sostituito con un software che gira su degli iPad banalmente consente di randomizzare, quindi di far uscire un ordine delle domande assolutamente casuale che di fatto rende estremamente complicato il copiare dal vicino. Questo vuol dire che da un punto di vista anche solo dell'organizzazione si rende il concorso molto più solido rispetto a interferenze di varia natura. I concorsi come li stiamo facendo adesso sono sicuramente ad un grado di sicurezza e di resistenza a potenziali turbative decisamente più elevato di quello che erano solo qualche anno fa. Allo stesso tempo, dato che la digitalizzazione arriva ad un certo livello, si aprono anche altri fronti che magari prima non erano così importanti. Ad esempio il tema vero su cui secondo me ci stiamo giocando il futuro è quello della cyber security. Noi mettiamo tanti dati, l'esempio che facevo prima, lo Stato si pone il problema di detenere e quindi di avere in proprietà delle strutture che archivino e proteggano i dati dei cittadini. Contemporaneamente tutti questi dati però possono essere qualcuno che vuole entrare in questi dati, prenderli, copiarli, manipolarli, ci può essere. Vediamo quello che è successo da quando c'è la guerra in Ucraina. Noi abbiamo già avuto dei casi di attacchi cibernetici che vanno gestiti. In questo momento la pubblica amministrazione è un po' come molte strutture private, cioè si sta scoprendo fragile davanti ad un livello di problema che fino a ieri era considerato non prioritario, ma che oggi sempre di più lo sta diventando. Questo è uno dei temi ad esempio di cui ci stiamo occupando perché insieme all'agenzia della cyber security stiamo reclutando gli ingegneri informatici che da domani mattina si occuperanno di resistere e di proteggere i nostri dati davanti agli attacchi dei pirati informatici. Grazie Presidente, Alberto Bonisoli, Presidente di Formas, abbiamo avviato un viaggio, mi sa che ci rivedremo sulla nuova Pia. Grazie, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie per il suo canale